Allora c'è un avvocato milanese che viene ad abitare a Roma e prende uno studio, no? Insomma si mettono là e quelli del palazzo vedono che è milanese così e tutti i giorni fanno gli scherzi al telefono. Anche il primo giorno come è entrato tutto pronto, squilla al telefono l'avvocato fa così. Pronto? Sì? Chi è? Sto cazzo! E gli attaccano! E questo tutti i giorni sbrocca la musica, no? A un certo punto tutti i giorni così, tutti i giorni così, tutti i giorni così, dopo una settimana sto milanese se vuole far trovare preparato, no? Allora aspetta la telefonata alle 8 di mattina e gli squilla al telefono come risponde? Fa così. Uè perla di un maledetto coglione mortacce tuoi! Allora dall'altra parte lui fa così. Ma scusi ma se risponde così al telefono? E il milanese. Ma perché? Chi è? Sto cazzo!